Buon Natale a tutti ragazzi, come state? Spero stiate divinamente, perché è ciò che ci meritiamo a Natale dopo aver attraversato un 2020 disastroso. È stato un anno veramente complicato, veramente catastrofico a dir poco in realtà, e quindi come minimo ci meritiamo che il 2021 sia l'anno di ognuno di noi, così come spero sia il mio anno, insomma, è greve, è greve la situazione. E niente, scrivetemi nei commenti nel frattempo cosa avete ricevuto per Natale, così almeno mi fate rosicare un po'. Per il resto, per quanto riguarda la mia esperienza personale, questo Natale, questa vigilia, eccetera, sono stati abbastanza brutte, non posso nasconderlo. Diciamo che in questi giorni c'è stato, a prescindere, un carico di stress che mi ha portato a quasi impazzire, però è tutto più o meno ok, insomma, adesso, perché per fortuna ci sono stati i miei amici e la mia ragazza che mi hanno, insomma, tenuto d'occhio, mi hanno aiutato in un certo senso. E inoltre, il 24, la vigilia, ieri, appunto, mi è presa una febbre incredibile che verso la sera è aumentata fino a 38, 38 e chissà quanto, perché alla fine sono morto e non l'ho più controllata per ore, perché diciamo che ogni ora il termometro segnava una temperatura diversa, quindi era 37 e mezzo, poi era 37, poi era 37 e mezzo, poi era 38, è terribile. Però fatto sta che poi il 25, quindi stamattina, mi sono svegliato con la febbre quasi passata, perché era quasi sotto a 37, tra l'altro l'ho schippato direttamente, però ho dovuto cenare praticamente a due metri di distanza dai miei genitori, e ogni volta che andavo in soggiorno o in cucina dovevo tenere la mascherina, perché, sai, disti tempi avere la febbre, non è molto convenzionale, ma comunque è stato un Natale veramente diverso dal solito. Niente, stamattina mi sono svegliato, mi è passata la febbre, più o meno passata la febbre, insomma, lentamente, con calma, però mi sono svegliato con un mal di pancia tremendo alle 8 e mezza di mattina, anzi no, alle 8 di mattina, e sono dovuto andare in bagno, fortissimo, perché mi veniva da cacare. Che ore sono? È mezzogiorno, attualmente sono 4 ore che caco letteralmente liquido, scusate per quelli che sono sensibili a queste cose, ma letteralmente 4 ore a cacare liquido, però è stato abbastanza traumatico perché mi brucia il culo. Quindi sì, sono stati due giorni traumatici, catastrofici, una merda di Natale. Oltre al fatto che, vabbè, i regali sotto l'albero erano molto molto limitati perché, come ben sapete, dal vlog del centro commerciale i miei mi hanno dato dei soldi e sono andato a comprarmi i regali di Natale da solo, quindi ho fatto spesa di vestiti e basta sostanzialmente. Questo è il mio Natale 2020, che non si poteva concludere meglio di così perché che hanno di me. Per il resto, il vostro Natale com'è stato? Spero meno catastrofico del mio. Vi sfido, vi sfido. Raccontatemi un Natale più catastrofico del mio. Avete i commenti totalmente liberi. Date il peggio in questo caso. E niente, ci vediamo lunedì con un video su Minecraft e ci vediamo, penso, l'anno prossimo. No, penso che farò un video per Capodanno, quindi manca ancora qualche giorno alla fine del 2020, quindi mi aspetto di tutto ormai, mi aspetto veramente di tutto. Mi aspetto di non arrivare al 2021 a questo punto. Buon Natale.